alessandro cecchi paone e il fidanzato simone antolini hanno abbandonato l'isola dei famosi simone antolini compagno di cecchi paone ha avuto un malore e i medici hanno decretato che per lui sarebbe stato meglio lasciare l'isola il compagno lo ha immediatamente seguito lasciando prontamente anche lui la trasmissione dopo aver condiviso un post che lo ritrae insieme al compagno alessandro cecchi paone condivide anche una foto di due carabinieri convolati a nozze che si baciano dopo alessandro e simone si baciano anche i carabinieri auguri ragazzi e questo è il commento dell'ex naufrago i fan della trasmissione hanno pensato subito ad una frecciatina rivolta proprio al programma ha infatti fatto molto discutere il bacio scambiato in diretta tra i due ma al momento cecchi paone non ha dato ulteriori dettagli e e